Due sorgenti coerenti emettono onde sonore di frequenza pari a 440 Hz ad una stessa intensità. Quanto vale la differenza fra i cammini dell'onda sonora necessaria affinché si determini la quarta frangia di interferenza costruttiva e per la terza frangia di interferenza distruttiva? La velocità del suono nell'aria è pari a 344 m al secondo. Con questo cartoncino rappresentiamo schematicamente la situazione. Abbiamo due sorgenti indicate con 1 e 2 che emettono onde sonore. Si tratta di onde sferiche che interferiscono fra loro. In particolare interferiscono nei punti che abbiamo evidenziato qua giù sulla figura. X1 e X2 indicano i cammini dell'onda. Affinché si verifichi una interferenza costruttiva è necessario che sia soddisfatta questa condizione. X1 meno X2 è uguale a n volte lambda. Lambda è la lunghezza d'onda, n è il numero della frangia, un numero progressivo naturale da 0 in su. X1 e X2 sono i due cammini d'onda. Il problema ci chiede di determinare la quarta frangia di interferenza costruttiva. Perciò possiamo scrivere che X1 meno X2 in modulo deve essere uguale a 4 volte lambda. Riassumiamo i dati numerici del problema. Abbiamo la frequenza, il numero della frangia per l'interferenza costruttiva e per quella distruttiva e la velocità del suono. Non abbiamo la lunghezza d'onda lambda. Introduciamo perciò questa ulteriore relazione che lega lambda con la velocità del suono. In questa relazione compare anche la quantità t che non è fra i dati del problema. Abbiamo però f che è la frequenza. Il periodo e la frequenza sono legati da un'ulteriore relazione che è questa. Il periodo è il reciproco della frequenza. Mettiamo insieme tutto quanto. La lunghezza d'onda possiamo ricavare da questa equazione. È data da v per t. Qualche t è uguale a 1 su f. La lunghezza d'onda sarà uguale a v fratto f. Possiamo sostituire quanto trovato nell'equazione precedente. X1 meno X2 dovrà essere uguale a 4 v su f. Possiamo sostituire i dati numerici. Quindi avremo che la differenza fra i cammini d'onda deve essere uguale a 4 per la velocità 344 m al secondo fratto la frequenza che è pari a 440 Hz. Ricordiamo che l'Hz è il reciproco del secondo, dell'unità di misura della frequenza. Perciò una frequenza di 440 Hz significherà 440 per 1 fratto secondi. Un calcolo numerico ci dà la seguente risposta. 3,13 metri. I secondi si semplificano infatti fra numeratore e denominatore. Per quanto riguarda l'interferenza distruttiva consideriamo una nuova formula, analoga a quella che abbiamo appena tolto. Affinché si verifichi interferenza distruttiva, la differenza fra i cammini dell'onda deve essere uguale a m volte lambda mezzi, dove lambda ancora rappresenta la lunghezza d'onda e m è un numero intero, positivo e dispari. 1, 3, 5 e così via. Possiamo procedere in modo analogo al precedente ed avremo che x1 meno x2 deve essere uguale, per ottenere la terza frange di interferenza distruttiva. 1, 2, 3, quindi dobbiamo considerare il numero 5, in questo caso, per lambda mezzi. Procedendo come fatto al punto precedente otteniamo questa risposta, 1,95 metri. Perciò quando la differenza fra i cammini d'onda è pari a 3,13 metri avremo la quarta frange di interferenza distruttiva. E quando la differenza fra i cammini è pari a 1,95 metri avremo la terza frange di interferenza distruttiva.